Madonna, ma chi è? Signorizzo? Sì? C'è un pacco da lei. Ah, eh, sì, grazie. Una ferma qua? Grazie. Salve. La riesci. Madonna. Giada, mi ha mandato un pacco. Mi ha mandato un sacco di parole. Sono pesantissimi. Mi raccomando, sosteneteci. Il peso delle parole. Giorgio Rizzo e David Imbeschi.